Ciao creatura, io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Gozai, ASMR. Non ho idea di cosa sto inquadrando, sto provando questa nuova videocamera, tipo Action Cub, perché l'ho vista da ASMR Esther, mi è venuto in mente che avrei potuto averla anch'io per fare i vlog, che è piccolina e quindi magari è più nascosta e mi vergogno meno a fare i video al mercato, che è meno scammabile. Non so cosa sto inquadrando, perché non vedo cosa sto inquadrando, ma mi sto aiutando con lo specchietto dell'auto. Andiamo a thriftare oggi con mia madre e quindi ti porto con me di nuovo a thriftare, visto che ti è piaciuto molto quel video. Il mio outfit di oggi è un abito nero e niente, adesso sono appena arrivata a Rovigo e vado a recuperare mia mamma e poi ci vediamo al mercato o forse andiamo a fare colazione, non lo so. Mia madre ora proverà il vestito che le avevo comprato io la scorsa volta, vediamo come le sta. Bellissimo dai, ci sta da Dio, che modella, top. Qui ho fatto colazione, ho preso questa, ho deciso di fare metà di questa brioche, la girella con l'uvetta e poi un bel cappuccino decaffeinato, buono. Ecco qua iniziamo col mercato, questa bancherella di ciabatte a 3 euro, tanti tipi di ciabatte. Poi andiamo in giro qua, vedrai molto shikerato, devo sistemare questa faccenda del vibrato nelle mie mani. e spero che non vomiterai. Un'altra bancherella 3, ora andiamo a vedere che qui non ho messo nessun effetto perché ho cercato di sistemare la faccenda che mi tremano le mani, quindi la ripresa viene tremolante e ho cercato di mettere con Premiere Pro degli effetti per la stabilizzazione dell'immagine e qua invece non l'ho messo e forse è anche meglio, non lo so, fammi sapere, creatura. Cercherò di accroccare meglio l'action cam, magari non tenerla in mano e metterla da qualche parte. Comunque qua stiamo guardando un po' questi vestiti e mi pare fossero a 3 euro, o a 2 euro, 3 euro, sì. E c'era tutta questa marca Rainbow che non l'ho mai vista, l'ho vista qui per la prima volta. Con una mano sola è un po' difficile, quindi sì, prossimo mercato, penso di accroccarmi in qualche maniera l'action cam così ho due mani libere e guardiamo insieme le cose. Qua mia mamma, qua c'era la roba 1 euro, queste sono le cose, quelle con i difetti, infatti ho comprato una cosa, poi ti faccio lol a fine video. No, non è questa, spoiler, non ho comprato quella, qui c'erano a 5 euro tutte queste sandali, ciabatte, sapò, queste cose. Mia mamma era tentata di comprarne un paio di verdi, poi voleva comprarmi queste qui, eccole, ma io ho detto non me le metto. Ne sta guardando alcuni, io te ne mostro un po' così, 5 euro, ecco. Ecco, e cercavo, faccio vedere anche i numeri, insomma faccio vedere come se fossi lì con me al mercatino, sono uscita a fare queste represe e sono troppo contenta. Qui 2 euro non si cambia, ci mancherebbe anche che vi cambiamo. Qua non mi piacevano, c'erano tutte tutte brutte, non mi piacevano, però ti ho fatto vedere un po'. Adesso andiamo a casa e ti faccio vedere cosa ha comprato mia mamma, poi mangio, faccio pranzo, insomma, e dopo ti faccio lol dove ti mostro che cosa io ho acquistato con una ripresa non tremolante. Allora mia mamma ha preso queste qui a 3 euro, queste ciabatte da uscita, poi ha preso questa maglia a 1 euro della Promod, c'era sia, questa pangrella non ho ripreso, poi c'era questa sempre a 1 euro e una specie di canottierina super frufru con questo fiocco rosso e tutte queste paillettes super luccicanti e ha detto che la indosserà per andare a ballare perché mia mamma balla il tango. Guarda come luccicosa, adesso io mangio i miei pomodori in insalata e questo pesce, poi qui mia mamma ha detto voglio filmarti io e questa ripresa così un po', però vedi che la sua è meno tremolante, il problema sono le mie mani tremolanti, scottava, poi ho detto a me la retammela e lei no no, voglio riprendere io. E niente questo ripresa, l'ho tagliato perché poi ha ripreso cose a caso che non c'entravano nulla, sbagliava l'inquadratura, ma va bene, lei almeno non è tremolante come la mia, vedi, il problema sono io. Poi c'erano anche i mirtilli che però non ho mangiato, vedi le sue riprese a caso, vabbè dai, mi ripiglio adesso la videocamera e ti faccio vedere che cosa ho acquistato, la ripresa e l'audio saranno sicuramente migliori. Andiamo ora a nulla. Tornati dal mercato, questo in realtà è un altro giorno perché ci sono stati degli imprevisti, dei suoni molesti che non dovevano esserci per realizzare questo ultimo pezzo di vlog, ma andiamo a vedere insieme il bottino che ho portato a casa io, che è molto scarso, vabbè, non ho comprato tante cose, però le cose che ho comprato super top. Ti dirò i prestiti di tutto, tranne di una cosa perché è un regalo e questa persona vede i miei video, quindi non mi sembrava carino. Per mio padre che mi chiede sempre t-shirt, 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 prendimi le t-shirt, prendimi delle t-shirt, prendimi delle t-shirt, ho optato stavolta per la qualità più che la quantità. E ho trovato questa t-shirt di marca con tanto di cartellini. Della marca K, roba di K, c'è l'originale perché c'è la marca dappertutto con il logo. E' una XL, questa qui, il tessuto è veramente molto, credo sia 100% cotone, aspetta che andiamo a vedere la sua etichetta proprio con la marca. Comunque, no, forse di questo non ho fatto il video perché ero immersa dentro nel guardare tutte le maglie. C'erano anche delle maglie della gas, però erano molto semplici, tutte nere, con una piccola striscetta bianca, ho scritto gas, sul fondo della t-shirt. E questa mi piaceva molto di più perché è nera, però c'ha dei colori e ha il logo con diversi colori. C'erano con il bordino verde militare e dentro una fantasia tipo foglie tropicali, una cosa del genere. Poi ce n'era una con il bordino arancione e non mi ricordo quale disegno. E poi c'era questa, mi piaceva, l'avrei presa col bordino rosso ma non esisteva. Al momento lì in quella pancherella l'ho preso giallo che è molto estivo. Mi piace il contrasto, poi ha questi colori all'interno, sia freddi che caldi. Voglio vedere se c'era un'etichetta all'interno per vedere, appunto, eccola qua. Allora, maglie della t-shirt, 100% cotone. Non credo si lega, però 100% cotone, infatti, è super morbida e sicuramente per l'estate è molto fresca. Cioè, non fa sudare perché non è un tessuto sintetico. 3 euro, insomma, mi sembra un buon affare. Ho un budget un po' più alto per i miei standard, che di solito sono 2 euro, però è nuova ed è 100% cotone di marca, quindi va benissimo. Poi c'è una pancherella dove, vado spesso, hanno spessissimo le cose a 2 euro, oppure in questo caso 1 euro. E hanno, loro hanno proprio un negozio fisico, questi di questa pancherella, dove vendono capi nuovi. Però lì mettono i capi con qualche difettuccio, quindi puoi trovare che magari è stato cucito un po' storto, che c'è qualche filo di fuori, che c'è qualche piccolo buchetto, oppure anche grandi difetti. E sta a te, insomma, perché le signore magari li prendono e riescono a modificarlo, aggiustarlo. E quindi ti porti a casa un capo che costerebbe, non so, 40-50 euro, però poi c'è qualche difettuccio. Io ho preso un sacco di roba lì, perché guardo anche che c'è, non so, un mini foro. Questo ha un mini buchetto, che potrei anche aggiustare con il filo del colore giusto. Però mi piaceva troppo perché ho già pensato all'abbinamento. Siccome ho un paio di pantaloni cargo, stile marroncino, tipo nocciola, 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 nocciola. E quando l'ho visto ho detto, ok, io non ho felpe, non ho più felpe, perché praticamente avevo tutte le felpe con le band, cioè ce le ho ancora. Però, per esempio, in questi 16 mesi che ho lavorato non ho mai potuto utilizzare una felpa. Perché, per ovvi motivi, per questi motivi, ecco, perché sennò erano tutte nere, tutte delle band, con disegni e scritte che al lavoro è meglio di no. E quindi adesso ho comprato questa felpa a un euro. Allora, sul cappuccio ho una stellina. C'è scritto made in italy, made with love. Davanti a questi, che sono un po', tipo, con del filo dorato e bianchi e marroni. E questa è la felpa. È taglia unica, è oversize, che però, secondo me, a me va abbastanza bene. Non lo so, ancora non l'ho provata, però le felpe sono belle comode, non attillate. E il difetto è questo qui, questo micro foro, che non so neanche se vedete. Questo qui è il difetto. Anche questo ha un tessuto molto morbido. Non è neanche pesantissima, però il tessuto è buono. Adesso vediamo se trovo l'etichetta. Per un euro. Cioè, ho visto su altre piattaforme, tipo Shein. Hanno queste felpe così leggeri. Non è neanche leggerissima, ma ce l'hanno anche più leggere. E le paghi dei 30 euro in su. 95% cotone e 5% elastane. Elastane. Quindi buonissimo. Bello, mi piace. Ci sta perfettamente con i pantaloni cargo che ho. E mi immagino anche con gli amfibi. Da Dio, ci sta da Dio. Ultima cosa che ho preso, sì, ebbene sì, ho preso solo tre cose. Se mi segui su Instagram, mi trovi con il nome Eccato e Splendente, se ancora non l'hai fatto. E già un capello vagante, un baby hair. Aiuto. Vabbè, resterà dentro il mio occhio per sempre. E avrei visto delle creazioni che ho messo a sua insaputa della mia amica. Perché se le vedi, se ci spoiler al regalo, in pratica sto facendo delle creazioni a mano. Perché le faccio sempre dei regali fatti a mano e qualcosa anche comprato. E quindi adesso ti mostro cosa ho comprato per lei. Praticamente le regalo sempre, quasi, sempre dei vestitini che poi dopo lei fa quello che vuole. E ho trovato questa marca che ho detto, appena l'ho vista, ho detto, no, beh, top, bellissimo, non l'avevo mai vista. Allora. Questa è la marca con questo gatto nero ed è Super Superstition, non so l'accento, però c'è il gatto nero con tipo superstizione, no, dovrebbe essere. Mi piace un sacco l'etichetta con tutti questi gatti neri, lucidi su sfondo nero però opaco. Che bello, non l'ho mai visto? Chissà di che, di che nazionalità è. Bellissimo. E ho preso una taglia S. Ed è un vestito tutto pizzato con una foterina bianca, quindi si vede questo pizzo il disegno. Ecco qua. Lungo. Un po' trappeggiato sul finale qua. Non credo si veda nero su nero però. È estivo perché è smanicato. Un po' trappeggiato. Beh, se no non lo prendeva. Appena l'ho visto ho detto no, vabbè, bellissimo. E niente. Questo è l'haul che ho fatto io. Spero che questo video ti sia piaciuto. Io te ne porterò, se mi metti tanti like, te ne porterò tanti altri. Fammi sapere se vuoi vedere qualcosa in particolare o se io continuo anche a portarti al mercato perché tanto ci andrò anche il prossimo martedì. Quindi fammi sapere se vuoi che continui a fare questi video oppure altrimenti, come proprio una serie, oppure altrimenti io la prossima volta che vado al mercato non lo filmo. Faccio le cose per conto mio, ecco, diciamo così. E se vuoi vedere perché magari ti dici no, ma io mi annoio a vedere sempre i vlog al mercato o fanne da altre parti, allora mi organizzerò per farli da altre parti. Basta che tu me lo faccia sapere, creatura, con un bel commentino, lasciami un like per sostenere il canale. Se ancora non l'hai fatto iscriviti, 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 iscriviti. Io ti auguro buonanotte, un relax, ciao, creatura.